Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 20 ottobre. Ariete, grazie a questa favolosa luna piena potete vivere una giornata spensierata e ricca di sorprese e l'amore può regalarvi emozioni straordinarie. Toro, non vi fate vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare, per conoscere persone nuove ed influenti, in amore osate di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato, nuove conoscenze vi permetteranno di crescere. Cancro, la forza rigenerante di Urano si fa sentire, non spaventatevi di fronte ad un cambiamento, dovete mettere da parte la vostra pigrizia. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Giove in posizione insidiosa può farvi perdere qualche buona occasione, quindi dovete stare in guardia. Vergine, in questo momento la vostra mente è prigioniera dei preconcetti, fate passare un po' di tempo prima di giudicare un rapporto sentimentale o professionale. Bilancia, la luna in questa posizione ha la capacità di rendervi più sensibili, il vostro bisogno di armonia sarà amplificato e tenderete a rivalutare i rapporti importanti. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro, la luna consiglia di tenere segreti alcuni progetti, in amore il sole rende tutto più confuso. Sagittario, la luna piena in ariete porta una ventata di freschezza in amore, già in serata riuscirete a recuperare un ottimo feeling con il partner. Capricorno sarà il caso di tenere sotto controllo le spese, ricordate che con questo mercurio difficile alcuni incassi possono subire dei ritardi. Aquario, la bellissima luna in ariete vi regalerà simpatia e tanto spirito di iniziativa, venere e marte promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Pesci, la luna in serata diventa positiva, avrete voglia di comunicare e di stare in mezzo alla gente, di vivere anche dei momenti spensierati, venere richiede prudenza e in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.